we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi finalmente la patch 12.60 alle 8 di questa mattina è disponibile per tutti ci aspettavamo sinceramente qualcosa di più un po più di giga in realtà non è tantissima ma vi posso garantire che ci sono dentro delle cose veramente incredibili e allora ringraziando sempre tutti i ragazzi per il supporto con il mio codice xyuderone andiamo subito a vedere che cosa ci dobbiamo aspettare partendo subito ragazzi dalla prima immagine di caricamento una loading screen davvero interessante che mostra un combattimento dentro l'agenzia da parte di una skin che non conosciamo contro gli scagnozzi armati prepotentemente di ombrello questo è solamente il preludio di ciò che sto per dirvi perché ci sarà una figata all'agenzia che arriverà appunto nei prossimi giorni andando avanti eccola proprio qua vista da un'altra angolazione la skin in arrivo con ben tre stili differenti con tutto il cappuccio con il colore bianco e senza occhiali davvero molto carina tra l'altro sappiamo che questa skin avrà un set quindi deltaplano piccone e copertura che però non dovremo shoppare andiamo avanti abbiamo una nuova skin presente nella 12.60 non mi ricordo ancora il nome bella colorata tuta tuta bea tirata ragazzi quindi staremo a vedere anche lei se avrà un ruolo o semplicemente sarà un nuovo outfit ma la notizia più incredibile ragazzi sbada bam eccola qua il grande ritorno della recon expert ora io non so se lo staff di epic games abbia avuto delle perdite in questi in questi mesi data la situazione ma rimettere in game dopo quasi tre anni la recon expert mamma mia mamma mia tra l'altro avrà uno stile unico per chi già l'aveva presa quindi per quelle 50 persone al mondo che hanno preso in season 1 questa skin e tra l'altro abbiamo proprio un'immagine di come si presenterà in game la skin stessa è stata rifatta completamente molto più dettagliata molto più pulita lineare e insomma tanta tanta roba ci sarà quasi certamente la possibilità di avere questa skin una delle più rare che purtroppo non sarà più così rara andando avanti abbiamo proprio l'immagine del deltaplano del set che vi dicevo poco fa come vedete molto carino a sopra un logo che abbiamo già visto ed è tanta tanta roba con missili fiamme che escono da dietro il suo piccone un'ascia praticamente con la doppia affilatura e andando avanti sappiamo anche che arriveranno delle coperture due coperture che troveremo nello shop la prima si chiama spectral flex ed è reattiva come potete vedere bellissima verde verde acido con del nero e la seconda si chiama invece camo pulse quindi arancione con dei tratti blu anche questa reattiva ma andando avanti troviamo anche degli stili aggiuntivi per alcune skin che potremmo aver shoppato in queste settimane la prima ragazzi come potete vedere mi dimentico sempre come si chiama la skin quella rosa con la maschera bianca viene trasformata in uno stile nero con una maschera rossa ma abbiamo anche una variante aggiuntiva per quest'altro che anche lui non ricordo mai come si chiama lo chiamiamo boh non me lo ricordo e poi invece una nuova skin con due stili separati una tizia che fa sempre parte di una sembra una nevi sì la roba del genere come vedete dietro colorazione blu e colorazione nera e blu per quanto riguarda i suoi outfit nuovo stile anche per questa signorina con la benda sull'occhio tutta bianca in faccia e invece ecco un'altra grande novità ragazzi un nuovo ombrello che arriverà proprio in questa season quindi in queste ultime due settimane di season 2 l'ombrello ragazzi per ottenerlo bisognerà solo completare le sfide storm the agency come vi stavo anticipando poco fa un nuovo set di sfide che introdurranno probabilmente il doomsday event perché qualcosa succederà all'agenzia e come vedete abbiamo delle sfide atterrare una volta all'agenzia 40 mila punti esperienza sopravvivere agli cerchi della tempesta un totale di 10 altri 40 mila punti aprire un fashion locked object aprire probabilmente un forziere di quelli speciali in ogni spy basis ci darà il piccone per tre volte swim over access non lo so la vedremo poi in italiano ci dà altri 40 mila punti ed eliminare 5 scagnozzi ci darà invece la copertura al completamento di tutte le sfide come vedete in basso otterremo il deltaplano penso che ci diano anche da qualche parte l'ombrello perché è scritto lì staremo comunque a vedere non perdete i video news mentre invece la copertura shadow seal quella appunto inerente al bundle della skin che vi ho detto all'inizio la possiamo vedere qua e dovrebbe arrivare anche questa in maniera totalmente gratuita andando avanti per quanto riguarda salva al mondo è stato inserito un nuovo fucile a pompa no questo non è salva al mondo è stato inserito questo fucile a pompa per la modalità esplosivi avvicinati potrebbe essere ho letto qualche secondo fa e quindi come notiamo utilizza ovviamente i proiettili del fucile a pompa a 4,84 secondi di tempo di ricarica cinque colpi nel caricatore e danno ai giocatori 9 quindi come vedete è completamente diverso anche qua non perdete i video news dove ne parleremo in maniera più corretta e approfondita andiamo avanti sempre per salva al mondo abbiamo due nuove skin il seawolf johnson con una nuova variante il free water can quindi per quanto riguarda la ciurma di barba blake abbiamo due nuovi due nuovi membri dell'equipaggio e anche questa ragazzi un'immagine molto interessante che ci lascia un pochettino sul chi va là sono state trovate sono trovati nei file di gioco delle immagini riguardanti i box che erano presenti nel cratere nella season 8 quindi vi ricordate ragazzi quella specie di piccoli prefabbricati dove si entrava c'erano dentro i forzieri a volte trovare anche le scatole di munizioni ecco gli hanno riaggiunti non sappiamo bene quale sarà il loro ruolo in questa season però noi prendiamo tutto quello che sappiamo e io ve lo dico sempre e chiudendo di nuovo con la schermata di caricamento questo era tutto quello presente nella patch 12.60 sappiamo che settimana prossima ci sarà la 12.61 io vi ringrazio per avere guardato questo video mi rivolgo ai ragazzi che sono adesso in live su twitch non me ne sto andando mando solamente l'altro non me ne sto andando grazie ragazzi per aver guardato il video mi raccomando il like e a me mi trovate proprio adesso su twitch ciao